Uno stop già annunciato, quello della Cantarelli, storica azienda tessile retina. Era stato lo stesso patron, Alessandro Cantarelli, qualche settimana fa, a preannunciare la chiusura temporanea della ditta per ragioni prettamente tecniche. Saranno effettuati infatti alcuni interventi sulle caldaie dello stabilimento. Intanto in questo periodo dell'anno è previsto anche il raccordo stagionale che comprende l'approvvigionamento e il cambio dei tessuti per le confezioni. Per qualche settimana rimarrando quindi chiusi i cancelli della Cantarelli, mentre ancora si attende la decisione del Tribunale sulla richiesta presentata dall'imprenditore. Il Tribunale di Arezzo non si è ancora pronunciato, circa la richiesta presentata la scorsa settimana. L'azienda aveva infatti richiesto una proroga dell'eventuale dichiarazione di insolvenza e la conseguente amministrazione straordinaria. Il patron Cantarelli, insieme agli avvocati Gatteschi e Catacchini, aveva presentato una dettagliata documentazione cercando di ottenere 60 giorni di sospensione per consentire così al fondo milanese IKF di portare a termine la due diligence e formare la propria proposta d'acquisto. L'azienda ha già comunque stabilito il calendario dei rientri delle maestranze. Gli addetti al taglio saranno operativi tra meno di due settimane dal 13 novembre, quelli al capospalla dal 18 e invece lo stiro dal 20. I 170 dipendenti, ancora in forza da Cantarelli, sfrutteranno in questo periodo di stop le ferie arretrate. Per altri 100 invece è ancora prevista la cassa integrazione. Grazie.